e salve a tutti i mici cooperiani e bentornati in questo nuovissimo video oggi è un video speciale perché siamo in compagnia del mio amico sharky hd la maca sharky h tutto ciao amici non sapevo quando dire ciao hd la maca ciao ragazzi che in pochi di voi hanno visto eri geologici che fa in un video di tarco perché non esiste più fantastico comunque niente oggi un video speciale a parte perché c'è sharky e lo vedrete molto spesso nel mio canale d'ora in poi perché martedì 17 inizieremo una nuova avventura un'avventura di podcast perché è figo a me piace veramente tanto mettermi qua e parlare di cose io e dylan mi ricordo una volta si iniziò a parlare a luna e abbiamo visto l'orologio erano le sei di mattina e quindi quindi speriamo soprattutto anche che riusciremo almeno non sforare l'ora probabilmente ecco qua podcast di 20 ore comunque di che cosa andremo a parlare signor dylan in questa cari amici caro cooper andremo a parlare un po di tutto quello che circonda il mondo videoludico quindi non soltanto dei videogiochi in sé ma tutto quello che c'è dietro ad essi come può essere il background di un'azienda videoludica e le serie tv i film legati al mondo dei videogiochi anche perché adesso ne stanno uscendo una marea c'è ne sono un sacco in cantiere tranquilli beati con la nostra bella birretta perché sarà tema lo diciamo lo diciamo niente diciamo la speranza non mi non mi riesploda la connessione che stavano succedendo cose che bello sarà tema taverna quindi con la bella birretta io il buon cooper chiacchiereremo parleremo un pochettino del più e del meno di di questo settore qua o perlomeno delle notizie settimanali di quel settore diremo un po la nostra opinione così a capo quindi non ci focussiamo per forza sul gioco sui giochi ma tutto quello che racchiude appunto serie tv film tutto quello che c'è anche una una copertina e quindi niente sarà la taverna la taverna la taverna quindi il podcast la taverna 2 locandieri come me e buon cooper esatto quindi nulla noi vi si aspetta martedì 17 alle due connessione permettendo spero di riuscire a caricare tutti i video di un'ora entro le due teoricamente ce la faccio con 20 mega da upload così che esplosa la gelateria quindi non posso più fare queste cose quindi niente spero che veniate in diversi a guardarlo che soprattutto io e dylan riusciamo in questa cosa perché non abbiamo mai fatto un podcast quindi speriamo di riuscire a far scorrere bene anche il tutto è la prima volta quindi gli speriamo che non uccideteci poi se verrà tutto male a questo punto vi si aspetta direttamente nella taverna yes ma direttamente nella taverna con birra gratis per l'inaugurazione ovviamente offre cooper anche io davvero la taverna è dichiarato la di tutti e due quindi niente signori noi ci si vede martedì 17 alle 2 e nulla spero vi piaccia alla prossima alla prossima ciao